Una campagna di prevenzione contro le patologie che colpiscono la pelle. Questo è il tema della giornata sanitaria organizzata dalla Confraternita Misericordia di Fevara per domenica prossima, quando dalle ore 8.30 alle ore 13 in piazza Don Giustino i volontari saranno presenti sul posto con una tenda dove un medico dermatologo svolgerà gratuitamente delle visite di controllo. In piazza Don Giustino lo specialista che offrirà consigli utili sarà il dottor Carmelo Sgarito. La campagna di prevenzione è stata fortemente voluta dal responsabile sanitario della Confraternita che ha sede in via De Gasperi, il dottor Dino Virgone e dal governatore della Misericordia Giuseppe Castronovo. Io ho accettato di buon grado l'invito che è stato rivolto alla Misericordia di Fevara per offrire alla cittadinanza favarese una giornata sanitaria, in questo caso una giornata finalizzata all'esame delle malattie della pelle. L'abbiamo denominata dermatiti, eczemi e allergie della pelle proprio per poter offrire il servizio a chiunque ne volesse usufruire, per cui chiunque ha una problematica cutanea di tipo allergico o non può benissimo recarsi verso la tensostruttura della Misericordia domenica e sarà valutata, sarà fatta una visita specialistica. Utilizzeremo appunto anche apparecchiature che personalmente cercherò di portare all'interno della tensostruttura. Credo che sia un'occasione importante per la cittadinanza, ma credo che sia soprattutto un servizio straordinario che l'associazione mette a disposizione dei favaresi. Un'altra giornata sanitaria organizzata dalla comprattenente a Misericordia dopo l'esperienza positiva delle visite oculistiche. Sì, grazie agli amici dottori che diciamo ci danno la disponibilità nel fare queste giornate sanitarie e dopo l'esperienza appunto come ha detto positiva dell'oculista, di domenica toccherà al dermatologo dottor Carmelo Sgarito, il quale metterà a disposizione tutta la sua esperienza sul campo lavorativo per dare un servizio gratuito alle persone. Dopo questa giornata speriamo di fare altre giornate, soprattutto per quanto riguarda i cambi sempre interessanti alla dermatologia, data la disponibilità del dottor Sgarito, ma anche per quanto riguarda l'endocrinologia e la cardiologia. La consulenza dermatologica, come del resto anche gli altri servizi di assistenza sanitaria offerti dalla confraternita, è a titolo gratuito, ma come ci dice il governatore Castronovo, un'offerta da parte dei fruitori dei servizi è gradita per aiutare la stessa misericordia a sostenere le spese necessarie per lo svolgimento dei servizi stessi. Faccio presente che l'associazione non è sonvenzionata da nessun ente, quindi è gradito anche non obbligatorio un contributo per sostenere l'associazione stessa e per l'attività che svolge quotidianamente per la cittadinanza. Ricordiamo inoltre che presso la confraternita misericordia di Fevara è sempre attivo il servizio di ambulanza 24 ore su 24. Per ulteriori informazioni gli interessati possono chiamare il numero 0922 43 82 01.